Ma è chiaro che ci sono delle situazioni dove poi il nostro lavoro diventa un po' più difficile perché io ci ho tenuto ad evidenziare il valore della prestazione dei miei ragazzi perché hanno fatto una grande partita ed era per quello per cui avevamo lavorato per tutta la settimana e poi abbiamo visto sfuggire poi il risultato per un episodio che non dipende da noi per cui l'amarezza è ancora maggiore perché non è avvenuto perché non è avvenuto per un gesto tecnico ma è avvenuto proprio per una decisione di conseguenza come dicevo prima il mio lavoro è ancora più difficile perché abbiamo visto poi svanire un obiettivo importante della nostra stagione perché poi noi ci tenevamo, sappiamo che è stato poi evidenziato il fatto che in precedenza questa società abbia vinto nove colpi tali e che la decima volesse dire anche mettere una stella sulla maglia che sarebbe rimasta per sempre, questi ragazzi poi sanno che quando uno raggiunge un obiettivo di questo livello rimangono nella storia della società, insomma rimangono nel cuore dei tifosi e di conseguenza il lavoro è un pochettino più difficile anche se naturalmente lo dobbiamo fare perché dobbiamo poi renderci conto che l'arbitro è una variabile è un'essenza per il gioco, però è una variabile che può determinare e che non dipende da noi e la dobbiamo prendere in questo modo Allora, soprattutto io non so niente di quello che si dice su questi dossier per quanto mi riguarda non c'è niente di vero per cui ritengo anche inopportune quelle che sono poi le dichiarazioni di Marino andando poi a valutare quelli che sono i nostri comportamenti perché noi non dobbiamo assolutamente farlo con gli altri però per quanto mi riguarda io non so niente di nessun dossier anche se poi, diciamo, quello che riguarda poi la squadra e soprattutto in delle sedi poi di un certo livello ci deve pensare la società ecco, penso che possano giocare tutti domani ora li ho tutti a disposizione